Grazie a tutti Affidarca, la barca dell'affido, l'arca perché sentivamo l'esigenza di creare un luogo, un'arca, una barca dove le famiglie affidatari e tutti coloro che intendono o fanno già affido potessero approdare e navigare in mezzo alle difficoltà dell'affido e usufruire dei vari saperi che tutte le altre famiglie affidatarie possono fornire. L'emozione che si prova quando si entra in questa casa è un'emozione grande che ti prende dentro perché vedi l'amore, vedi la responsabilità, vedi la consapevolezza, vedi il dono, vedi l'impegno, vedi famiglie che accolgono altri e che reciprocamente si aiutano e questo credo sia importante per loro ma è importante anche per tutti noi. Io oggi qua ho scoperto un luogo molto bello dove ci sono famiglie che accolgono bambini e bambine e questi bambini giocano insieme, vanno d'accordo e si dividono i giochi e se li scambiano senza urlare, senza litigare. E' un posto pieno di pace e anche questi genitori, questi adulti si vede che stanno molto bene con questi bambini che sono contenti di stare con loro e di aiutarli e di dare a loro quella cosa che si chiama amore che è così importante per la vita e per crescere. Tiriamo indietro, eh? Facciamo così, bella. A GD perché? Perché la nostra associazione si occupa di giovani con diabete per cercare di dare supporto sia ai bambini con diabete di tipo 1 che alle famiglie in un percorso non sempre facile di accettazione della malattia. Associazioni come queste veramente rendono la vita molto migliore ai bambini, ai genitori. E' stato un pomeriggio molto toccante e oggi abbiamo scoperto che i bimbi che soffrono di diabete possono diventare autonomi, diventano grandi, più indipendenti e questo sicuramente è un merito per questa associazione. Bibliomondo perché i libri sono un mondo e aiutano anche a capire com'è il mondo quindi ci piace pensare che questo sia un luogo aperto al mondo, a tutto il mondo e che i libri che sono qui dentro e quelli che arriveranno in futuro possano davvero darci una visione diversa sulle cose. Ho scoperto un mondo meraviglioso, dei libri bellissimi e dei volontari bravissimi nel valorizzare questo patrimonio che è un patrimonio per tutta la comunità molto, molto prezioso. L'emozione è quella che non ho visto ma che facilmente riesco a immaginare di ogni bimbo che apre un libro. I libri sono davvero un'occasione, al di là dell'oggetto e quindi abbiamo visto di meravigliosi, con illustrazioni straordinarie anche di valore, ma non riesco a immaginare un valore più grande del riuscire ad aprire la mente di bambini che in questa età formano la loro attitudine futura. Siamo in un posto particolare perché è una boutique nella quale tante persone danno, offrono per far sì che altri abbiano. La dignità della persona, dei bambini, passa anche attraverso un vestito, un completino, le scarpe e quindi anche la ripartenza di un nuovo percorso passa anche attraverso queste cose che non sono scontate per chi ha delle difficoltà ai conti. Perché colibri? Perché i nostri bambini qui ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale di Parma sono come questo uccellino, piccoli, forti e da qui è iniziato il nostro impegno. Noi siamo mamme di bimbi nati prematuri e lavoriamo con questo progetto famiglie che sono qui ricoverati nel reparto. È un'emozione grandissima toccare con mano le esigenze di persone che sono state meno fortunate di noi e che grazie al grande cuore dell'Associazione Colibri riescono a ottenere dei risultati importanti. Ho scoperto un'eccellenza di Parma fatta di pubblico e privato che lavorano insieme per il bene dei bambini e ho scoperto quindi professionalità e tenerezza. E se di questo amore conterò le ragioni so che come le stelle sono milioni e milioni. Il portico perché si costruiscono relazioni, le persone si incontrano, si conoscono e costruiscono dei rapporti arricchenti per l'intera collettività. E a noi piace ricordare che da cosa nasce cosa e da relazione nasce relazione. L'emozione di stare in mezzo a questi bambini simpaticissimi accompagnati dai genitori e noi con queste ragazze che stanno facendo volontariato veramente incomiabili. È stato un pomeriggio molto molto interessante e devo dire la verità che al di là di una certa promozione mi sono anche divertito. Adulti, bambini, vivono tutti insieme scambiando le loro esperienze di vita. Molto bello. Volontariamo? Sì, grazie. Noi oggi siamo qui in una festa con anziani, bambini, nuovi italiani, italiani da più generazioni ed è bello che le persone possano incontrarsi per parlare insieme, costruire una città nuova, più umana e più a misura l'uomo per tutti. E quindi c'è bisogno di artigiani della pace e del diavolo. Oggi pomeriggio ho scoperto un gruppo di ragazzi che ha voglia di stare insieme, che ha voglia di studiare, che ha voglia di giocare, che ha voglia di socializzare. E ho trovato anche un bellissimo gruppo di volontari, di ragazzi più grandi che aiutano questi ragazzi più piccoli. L'emozione più grande oggi è stata quella di vedere nuove e vecchie generazioni insieme. È stato molto bello servire i bambini, è stato molto bello prendere sotto braccio gli anziani e farli accomodare. Culturalmente perché crede fortemente nel creare uno spazio, un luogo di quartiere aperto a tutti che faccia da incubatore e inclusione sociale. Oggi ho scoperto un ponte tra culture, tra culture che si incontrano, si conoscono e si apprezzano, dialogano tra di loro. Il sostegno che la Fondazione dà a tutte queste attività di volontariato non è solo un sostegno economico, ma è un sostegno direi etico, affettivo. Questo pomeriggio passato assieme ai bambini è stato un pomeriggio meraviglioso, associazioni come queste sono il sale delle nostre società, della nostra democrazia e spero veramente di vederle sempre più coese nel momento difficile che stiamo vivendo in Italia attorno a distruzioni come anche la nostra che ha il compito di valorizzarle tutte e di rendere questi bambini i cittadini del futuro. Pace, è bello esserci e non potrebbe esserci niente di più bello che questa realtà, non solo per il posto, ma per essere così accoglienti, inclusivi e con degli obiettivi così alti. Il benessere delle nostre famiglie è quello dei nostri ragazzi. In questo luogo oggi ho scoperto una cosa molto interessante e cioè che la Fondazione di questa associazione offre non dei servizi per disabili, ma offre un cammino di condivisione con altre famiglie che hanno lo stesso tipo di problematiche. oggi è come prendere al volo un'opportunità, conoscere degli altri ragazzi, conoscere delle altre persone e pensare che insieme si possono superare le differenze, si possono superare le disabilità e si può costruire un mondo migliore. Il Farro 23 nasce tra l'incontro di due madri, di cui una con figlia con disabilità mentali, che si sono incontrate e si sono venuti incontro per l'esigenza dei genitori e del figlio, nel senso che dopo scuola avevano bisogno di una struttura che potesse tenere questi ragazzi. Il Farro 23 opera a Salsomaggiore e in tutta la provincia. Cosa ho trovato qui? Ho trovato una cosa eccezionale. Con l'amore e con la solidarietà e con l'unione fra tutti si riescono a superare tutte le difficoltà, anche quelle più profonde, quelle più importanti. E questo credo che sia il bello che noi cerchiamo nella vita e noi stessi. Ho trovato una gioia insolita. È come un tuffo in momenti che nella vita uno avrebbe voluto vivere, avere, condividere, perciò sentiti, partecipanti. Perché la fondazione Matteo Bagnaresi? Perché abbiamo voluto con questa fondazione ricordare il nostro figlio, che era molto impegnato nel campo della sociale, della solidarietà verso i più bisognosi. E quindi la nostra idea è stata quella di organizzare insieme ai suoi amici, ai nostri amici, una struttura e un progetto per il doposcuola, per aiutare i ragazzi che hanno bisogno, che sono soli, che sono in difficoltà. Io ho scoperto che anche da un grande dolore può nascere ancora gioia e felicità se abbiamo il coraggio e la forza di donarci ulteriormente agli altri. La sensazione prevalente è quella di un posto allegro, dove viene fatta un'attività molto utile, ma in un clima di grande armonia e di grande serenità. Perché Futura è un'associazione fondata da mamme ostetriche per sostenere e accompagnare i genitori durante la gravidanza nella scelta del luogo del parto e nel postparto, perché diventare genitori è un momento di cambiamento meraviglioso, ma anche complesso. Mamme che si prendono cura dei loro bambini e mamme che dedicano del tempo, hanno scelto di farlo insieme ad altre mamme. Credo che sia un messaggio molto importante e significativo di come, fin dalle esperienze più intime e più personali, alcune persone della nostra comunità approcciano alla vita e si mettono in relazione con gli altri. È stata un'esperienza molto bella, perché mi ha consentito di venire a contatto con questi bambini piccolissimi, che accettavano di essere massaggiati e sorridenti. gioca amico perché è un'associazione che permette ai bambini ricoverati di non interrompere la continuità con la loro vita pre ricovero e quindi portare avanti quello che è il loro mestiere, cioè giocare, perché il gioco per noi è una cosa seria. Esperienza positiva all'ospedale dei bambini, quest'anno come l'anno scorso, con in più quest'anno quasi la nostalgia di non essere più bambino, ma forse bambino lo sono perché è data la mia età sto davvero quasi rimbambendo. Giornata ha spesa bene oggi seguendo il filo del volontariato. Quello che possiamo imparare all'ospedale dei bambini è quello che bisogna impegnarsi per capire la situazione di tutti e per crescere tutti assieme. Il giro tondo è una figura tonda, un tondo, che non ha angoli e che vuole includere alla pari le storie delle persone. Siamo quattro famiglie e la nostra forza principale è proprio quella di mettere insieme le forze di tutti. Per me è stata un'emozione intensa partecipare a questa iniziativa, sapendo che appunto questa attività è in favore di ragazzi in difficoltà. Ho trovato un bellissimo giardino, ma soprattutto quattro bellissime famiglie. In noce perché essere coppia, essere genitori e anche impegnarsi per il bene comune, per aprirsi agli altri, per dare accoglienza. Quello che è bello è sapere che tutti i bambini che sono passati di qua, che hanno cappestato il prato, hanno trovato la propria strada. Questa per noi è una cosa meravigliosa. Ho scoperto una gran bella famiglia allargata, ho scoperto una casa molto bella, ho scoperto un posto dove le persone stanno insieme, fanno il cinema, fanno la marmellata, fanno il sugo di pomodoro, fanno tantissime cose insieme per tante persone. Gli animali ti lasciano impronte nel cuore, nelle tue emozioni, impronte nell'anima a questa mission di regalare sorrisi, sorrisi alle persone fragili che vivono delle fragilità sia in maniera permanente che in maniera temporanea. Oggi abbiamo visto al lavoro due asini e veramente la tranquillità che questi animali riuscivano a trasmettere ai piccoli bambini è veramente una cosa eccezionale, quindi un'esperienza bellissima. C'erano gli animali e c'erano i bini e devo dire che entrambi sono capaci di fatti cambiare dal punto di vista e sarà un caso ma loro vanno d'accordo, però l'impressione è quello che ho sentito e poi facciano andare d'accordo anche le persone che sono l'intorno. Quadunia significa con la terra e con il mondo, per noi significa costruire una cultura dell'accoglienza sta sporcandosi le mani, quindi facendo, facendo delle attività, vivendo delle esperienze in un luogo come questo che è un luogo nato per fare esperienze e imparare a stare insieme soprattutto. Oggi ho scoperto il nuovo sindaco di Parma in questa comunità, si chiama Modu e sarà il prossimo sindaco di Parma, il primo sindaco nero di Parma. Oggi ho incontrato tanti volti sorridenti e ho avuto conferma di come con il gioco si possano insegnare tante cose importanti e trasmettere valori significativi. Vieni qua! No, non vieni! Perché il Lago di Pane? Intanto perché no, noi esistiamo, siamo nati, inizialmente era forse un bisogno nostro che è diventato un bisogno loro, ognuno di noi si arricchisce, ci divertiamo e speriamo veramente di essere sempre più presenti col bisogno nostro, vostro e loro. Un senso di grande serenità, di pace, un luogo magico dove gli animali, una natura stupenda, fa da contorno a un grande senso di famiglia, di accoglienza, di tenerezza. Oggi è stata una giornata molto emozionante, porto a casa un'emozione molto forte da questa esperienza e sarà un'esperienza che vorrò condividere in famiglia con i miei figli. Qualche'olta gli diamo da mangiare? Alla mattina andiamo a prendere le uova. Sì, a prendere le uova. Il laboratorio famiglia in Oltretorrente è la casa, è la casa del quartiere Oltretorrente Parma Centro, è nel cuore dell'ospedale vecchio, è un luogo dove la luce è sempre accesa e dove incontrerai, aprendo la porta, gruppi molto diversi che sapranno ascoltare e darti un sorriso ed accoglierti. È un gran bel posto perché è un posto dove, fra tutti coloro che lo frequentano, dagli operatori e anche i fruitori, ho notato una grande, forte armonia. Non so cosa fare, non ho ancora desidero di fare. È stato un pomeriggio veramente molto bello, tanti sorrisi, tante persone che sono passate di qua, che hanno trovato altri sorrisi che si sono incrociati con loro e soprattutto tanti bambini che giocano insieme e che hanno giocato anche insieme a me. Le ringrazio di cuore per questo pomeriggio veramente fantastico. Madame Adorè è un disegno, è qualcosa che richiama qualcosa di antico come la famiglia. La famiglia è quello che noi cerchiamo di dare a dei bimbi che per tante ragioni non possono crescere nella loro famiglia naturale. Oggi ho scoperto una realtà molto bella, molto importante, che mi ha davvero colpito tantissimo e tanti bambini che cercano un po' di felicità nella loro vita. La casa non è fatta solo di muri, è fatta di relazioni, di sentimenti, di autonomia ed è quella che questi ragazzi acquisiscono all'interno di questa casa. Madame Adorè! Madame Adorè! A tutti voi! I miei nipoti che fanno esperienze di volontariato mi dicevano come si trovavano bene con i ragazzi, e stamattina l'ho scoperto anch'io. Veramente è stata una scoperta magnifica. Portos nasce per dare una mano, per giocare insieme, per avere uno stimolo di noi volontari a dare un qualcosa di utile, di positivo e di integrazione alle persone che ci ruotano attorno. Assolutamente sorpreso di ritrovare in questo quartiere della città, in questo piccolo edificio, con questo bellissimo giardino, persone che dedicano tutto il loro tempo al bisogno degli altri. 70? Grandissimo! Una palla ovale rimbalza in modo totalmente imprevedibile. Se facciamo una metafora con la vita, con quello che ci succede, e noi, con la nostra associazione Sostegno Vale, cerchiamo di aiutare coloro che nella vita si trovano a dover fronteggiare dei rimbalzi totalmente inaspettati. La giornata di oggi mi ha dato come sensazioni gioia, spensieratezza e soprattutto una sensazione di correttezza in questi ragazzi che giocano davvero per la voglia di divertirsi e di stare assieme. Quindi io credo che lo spot sia effettivamente questo. Sono molto contento di aver partecipato. Per me è stata un'esperienza nuova, molto bello, molto bravi e il campo verde a me attrae sempre, per cui mi sono anche molto divertito e bravi ragazzi che lo fanno per tutto l'anno. Un, due, tre, buca diolossi! Un, due, tre, buca diolossi! Grazie a tutti